Non molto tempo fa nei commenti di un video che ho realizzato su directa mi è arrivato un commento molto interessante e questo commento mi richiedeva un chiarimento su quelle che sono le commissioni e tutti i profili commissionali che possiamo scegliere all'interno della piattaforma. Ho deciso quindi di chiarire questo dilemma realizzando un video che sia il più chiaro possibile e il più semplice possibile. Benvenuti a tutti in questo nuovo video, io sono Lorenzo e in questo canale parliamo di finanza personale, investimenti e cripto. Se siete quindi interessati a questi temi vi invito ad iscrivervi al mio canale per non perdervi i prossimi contenuti. Come vi anticipavo poco fa oggi parleremo dei tre profili commissionali che ci offre directa andandoli a sviscerare uno per uno per capire quale conviene di più in base alla tipologia di investitore che siamo. I nomi di questi profili sono semplice, dinamico e variabile. Per quanto riguarda il primo profilo sia quello semplice, come ci suggerisce già il suo nome, è molto facile capire quelli che saranno i costi. Infatti si ha una commissione fissa di 5 euro su qualsiasi tipo di ordine che si va ad effettuare, a prescindere dalla cifra che investiamo. Quindi se io avessi 100 euro da investire, l'investo con questo profilo pago 5 euro di commissione. Se ne avessi 10.000 pago 5 euro di commissione. Poi dipende anche dal mercato dove operiamo, perché se operiamo sul mercato MOT e SEDEX avremo una commissione che è di 6 euro, però appunto si applica la stessa regola che abbiamo visto finora. Perché se lo stesse chiedendo il mercato MOT sarebbe quello dove si vanno ad acquistare i BTP, i BOT e tutti i titoli di Stato e le obbligazioni in generale che esistono. Invece il mercato SEDEX è un mercato all'interno del quale si possono negoziare dei derivati, dei certificati, quindi strumenti un po' più complicati. Questo profilo secondo me è più adatto a chi ha grossi capitali. Infatti andando a investire, come dicevo prima, a 10.000 euro avremo la stessa commissione che ha una persona che ne investe 100. Quindi perché è un grosso capitale la convenienza è ovvia. Dato che appunto nel caso di un investimento dove si mettono 100 euro abbiamo una commissione del 5%, passando invece un investimento di 1000 con una commissione di 5 euro abbiamo una commissione dello 0,5% e andando a salire la commissione quindi sarà su 10.000 euro di 0,05%, quindi davvero irrisorio rispetto all'investimento in generale. Pensate che solitamente sugli investimenti si cerca di stare sotto l'1% e stando sullo 0,05 è davvero un risparmio enorme. Passando poi a quella che è la commissione dinamica, qui diventa un pochino più complicato da comprendere il discorso, però cerchiamo di spiegarlo in modo semplice. La commissione parte da 8 euro per ogni eseguito che facciamo e poi va a scalare. Quindi se noi nella stessa giornata facciamo più ordini, sul primo avremo un costo di 8 euro, sul secondo di 7 euro e così via finché non raggiungiamo i 3 euro. A quel punto dal sesto ordine eseguito al venticinquesimo ordine eseguito avremo sempre il 3 euro di commissione, poi dal ventiseiesimo abbiamo il 2 euro di commissione e infine dal cinquantunesimo in poi la commissione sarà di 1,50 euro. Quindi questo è un profilo un po' più complicato da comprendere ma anche da spiegare perché appunto abbiamo degli scaglioni che ci dicono in base a quanti ordini facciamo qual è la commissione. Ovviamente questo conviene per chi opera tanto e opera con grosse cifre perché in questo caso la commissione è fissa come lo era per la commissione semplice che abbiamo visto prima. In questo caso parte da un numero leggermente più alto ma per chi deve fare investimenti ripetuti nello stesso giorno e con alti importi può risparmiare parecchio. Infatti se ho ipotizziamo 100.000 euro da investire in un singolo giorno posso partire investendone 5.000 e ad ogni botta questi vanno a scendere quindi 5.000 e pago 8 euro, poi 5.000 ne pago 7, poi 5.000 ne pago 6 e così via. Alla fine quando vado a investire gli ultimi 5.000 pago solo 1,50 euro su 5.000 che è pochissimo. Naturalmente poi bisogna valutare perché se l'individuo in questione vuole investire questi 100.000 euro nello stesso strumento non ha senso andare a fare diversi investimenti per andare a ridurre la commissione a quel punto tanto vale utilizzare quella che era la commissione semplice di prima così 100.000 euro li investiamo sullo stesso strumento e siamo a posto. Quindi riassumendo quest'ultima casistica secondo me si applica bene a quelli che sono i trader che fanno più operazioni nel corso della stessa giornata e che hanno comunque importi abbastanza elevati perché appunto vedremo adesso che con il profilo successivo possiamo fare praticamente infinite operazioni pagandole sempre 1,50 euro con bassi importi. Passiamo quindi al profilo variabile questo è quello che ho deciso di utilizzare io perché appunto per quanto riguarda gli importi che investo e la frequenza con cui investo si sposa al meglio appunto con la tipologia di investitore che sono dato che funziona in un modo molto semplice parte da una commissione minima di 1,50 euro quindi che noi investiamo 10 euro o che ne investiamo 300 paghiamo sempre 1,50 euro e poi invece si applica un aliquota dell'1,9 per 1000 quindi per esempio se noi avessimo 1000 euro da investire paghiamo una commissione di 1,90 euro quindi leggermente di più di 1,50 che era quella minima infatti si ha uno scarto più o meno intorno agli 800 euro perché da quel momento in poi la commissione passa dall'essere 1,50 euro a salire piano piano fino ad arrivare ai 1000 invece diventa leggermente sconveniente a mio avviso per chi investe magari solo 100 euro e comunque pagare 1,50 euro rispetto alla commissione semplice che abbiamo visto all'inizio rimane conveniente perché appunto su 100 euro ne paghiamo noi 50 al posto di 5 però allo stesso tempo stiamo pagando l'1,5 per cento di commissione che è parecchio alto in questo caso quello che molti suggeriscono e che anch'io ho cercato di fare quando era possibile è di avere una cifra un pochino più alta da investire per esempio 300 euro ovviamente di più se se ne ha la possibilità poi ovviamente ognuno in base a quelle che sono le sue esigenze le sue possibilità può scegliere perché comunque già 1,5 per cento come commissione non è malaccio però ecco si può fare di meglio infatti potrebbe convenire fare un investimento leggermente più grande perché se noi passassimo a investire per esempio 300 euro con la commissione di 1,50 euro l'impatto percentuale sarebbe dello 0,5 per cento e ovviamente diventa un numero molto competitivo poi il momento in cui conviene maggiormente questo profilo variabile è nelle cifre che vanno appunto dagli 800 euro fino a circa i 2-3 mila euro perché infatti se noi ci andiamo a calcolare l'1,9 per mille su 3 mila euro viene una cifra di 5,7 euro a questo punto capite che conviene per investire una cifra tonda come 3 mila euro spostarci sul piano commissionale semplice e pagare solo 5 euro di commissione fissa e risparmiamo quei 70 centesimi bisogna quindi valutare volta per volta quanto si vuole investire se è tanto si può appunto valutare di fare un cambio di piano commissionale perché appunto è possibile solo che per farlo bisogna aspettare una giornata lavorativa quindi se so che domani devo investire 3 mila euro dico va bene utilizzo il piano semplice oggi mi devo già movimentare per andare su directa cambiare il mio piano commissionale così domani quando vorrò fare l'acquisto pagherò solo 5 euro al posto di 5,70 euro ovviamente non parliamo di risparmi enormi però con queste attenzioni possiamo comunque risparmiare un pochino e appunto far rendere un po' di più i nostri investimenti come vi dicevo prima una regola secondo me importante per quanto riguarda i costi degli investimenti e farli stare sempre tra l'1,5% in giù poi vabbè ovvio che non si può arrivare a zero anche se ci sono alcuni broker che offrono strumenti gratuiti di cui abbiamo già parlato anche negli scorsi video anche a proposito di directa e ve lo lascio qui in alto a destra però ecco in generale arrivare a zero è quasi impossibile quindi ipotizzando che non ci siano situazioni dove si va a zero sicuramente le commissioni di directa sono le migliori in Italia per un broker a regime amministrato per quanto riguarda quelli dichiarativi si si risparmia molto anche se ultimamente ho visto che i prezzi sono saliti però rimane sempre il costo del commercialista che non è minimamente paragonabile a quelli che sono degli acquisti per esempio fatti mensilmente o anche bisettimanalmente su un broker amministrato infatti se ci facessimo due conti molto semplicemente noi andiamo a investire ogni mese ipotizziamo che paghiamo l'1,5 di commissione ma siamo anche un po' più larghi facciamo 2 euro al mese abbiamo un costo annuale per quanto riguarda i nostri investimenti di 24 euro ipotizzando che compriamo un solo strumento ma poi potrebbero aumentare non lo so a 48 euro se fossero due strumenti e così via beh ovviamente potete immaginare che per fare una dichiarazione dal commercialista 48 euro non basta non ne servono molti di più oltre al fatto che comunque bisogna recarsi dal commercialista spendere soldi in benzina perdere tempo e così via e c'è sempre il rischio di sbagliare perché ci sono broker come DeGiro che ultimamente hanno mandato dei report sbagliati agli investitori creando parecchi problemi sia gli investitori che i commercialisti e generando quindi costi ulteriori oltre al rischio di generare delle multe invece una piattaforma come Directa ha dei costi fissi fa tutto da sola non dobbiamo preoccuparci di dichiarare nulla perché fa tutto in autonomia e abbiamo semplicemente dei costi commissionali che sì a volte sono più alti ma ultimamente i broker a regime dichiarativo si sono allineati e quindi non c'è quasi nemmeno più risparmio a livello commissionale andando da altre parti c'è solo il problema che bisogna pagare il commercialista poi ovviamente per chi fa tantissime operazioni al giorno con magari un basso capitale a quel punto può avere senso andare sul regime dichiarativo ma questa è un'altra situazione io solitamente parlo e mi riferisco ad investitori che fanno un'operazione al mese due operazioni al mese comunque persone che investono per il lungo termine ed è una cosa che appunto faccio perché non ritengo che sia diciamo fattibile fare market timing e queste strategie perché le trovo appunto molto difficili molto dispendiosi a livello di tempo anche molto rischiosi invece andando ad investire su strumenti magari più diversificati e mantenendoli a lungo termine c'è la possibilità di avere rendimenti più ampi ed è quello che ha dimostrato il mercato negli ultimi anni se dovessimo quindi fare un breve riassunto directa offre tre piani commissionali il primo è quello semplice ci fa pagare 5 euro a prescindere dall'importo che investiamo e a questo punto conviene a chi ha grossi capitali invece abbiamo un secondo piano che è quello dinamico e permette a chi fa diversi ordini durante il giorno di andare a ridurre le commissioni pian piano si parte da un primo ordine che costa 8 euro andando a scalare fino al 51esimo che costa 1,50 euro quindi piano piano andando a fare diversi investimenti si riduce la commissione giornaliera e appunto questo è più interessante per chi fa molti ordini durante il giorno perché in alternativa con la commissione del profilo precedente pagheremo 5 euro per azione e su 50 per azioni diventano tanti soldi infine abbiamo il piano commissionale variabile che è quello più interessante per chi fa investimenti piccoli e un po' più di rado infatti per chi investe una volta al mese due volte al mese e così via è molto interessante dato che la commissione è dell'1,9 per mille con un minimo però di 1,50 euro è comunque quello che è più competitivo perché appunto permette di risparmiare molto sulle commissioni naturalmente la cosa più intelligente da fare è quella di avere un investimento minimo che sia magari sopra i 100-200 euro per far sì che le commissioni incidano in modo inferiore sull'investimento infatti andare a investire per esempio 100 euro a 1,50 euro potrebbe essere sconveniente anche se non è comunque male rispetto ai costi che hanno altre piattaforme però si può far di meglio e in questo caso quello che si sente dire magari su internet appunto per chi utilizza direct è il fatto di dire beh io ho la possibilità di risparmiare 100 euro al mese però investirli non ha senso allora cosa faccio? ne tengo 100 un mese ne tengo 100 un altro magari ne tengo 100 per un altro ancora e poi alla fine ho un gruzzoletto di 300 euro che vado a investire con una commissione di 1,50 euro in quel modo vado a pagare una commissione dello 0,5% che è veramente molto molto competitiva quindi non esiste una risposta uguale per tutti ma bisogna scegliere il piano commissionale sulla base del proprio capitale sulla base della propria attività nell'investimento quindi quanto sia attivi o quanto sia passivi perché più passivo magari conviene un piano semplice se c'è un grosso capitale o un piano variabile se il capitale è più limitato o in alternativa perché appunto è più attivo c'è il piano dinamico che è assolutamente molto utile detto questo io vi ringrazio per aver visto il video fin qui vi invito se avete altre domande su directa o su qualsiasi altro broker a farmene qui nei commenti così vi risponderò magari subito con un commento o eventualmente con un video come in questo caso e infine se il video vi fosse piaciuto vi invito a lasciare un bel mi piace e anche a valutare ed iscrivervi al canale noi ci vediamo al prossimo video statemi bene